Sono Bruno Pizzol e qui di fronte a me vediamo l'undici di partenza titolare della formazione del Verona, la formazione dei titolari in cui Mr. Superseva la prepara sempre per far scendere in campo i titolari. Tra poco qui su canale YouTube di Superseva in E-Sport FC24 per il prossimo episodio con la carriera allenatore con il Verona.